Lucrezia Lando, la famosa ballerina nota per la sua partecipazione a Ballando con le stelle su Rai 1, ha lasciato il palco per dedicarsi a nuove sfide. Dopo aver conquistato il pubblico come maestra di ballo e aver trovato l'amore con Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, Lucrezia si è reinventata come opinionista televisiva. Oltre ad apparire come ospite alla vita in diretta con Caterina Balivo, Lucrezia ha lanciato un format social insieme a Lorenzo, in cui commentano le esibizioni dei concorrenti direttamente dal divano di casa. La sua carriera da opinionista tv è iniziata con successo, mantenendo viva l'attenzione del pubblico su di lei. La relazione tra Lucrezia e Lorenzo si è rafforzata nel tempo, tanto da far sognare la coppia di sposarsi e avere un figlio. Lucrezia ha scritto una lettera a Lorenzo, esprimendo il desiderio di diventare genitori e rendere felice il nonno Rocco Siffredi con un nipotino. La coppia sembra pronta per il grande passo e per costruire un futuro insieme. Rocco Siffredi ha dichiarato di non vedere l'ora di diventare nonno, confermando il suo entusiasmo per l'arrivo di un bambino nella famiglia. L'amore tra Lucrezia e Lorenzo è palpabile e la coppia sembra determinata a costruire una vita insieme, con progetti di matrimonio e genitorialità in cantiere. I fan della coppia non vedono l'ora di ricevere ulteriori conferme su queste emozionanti novità, sperando di poter presto festeggiare un matrimonio e l'arrivo di un nuovo membro nella famiglia. La storia d'amore tra Lucrezia e Lorenzo continua a emozionare.